K44 Tecno, dentro gli ingranaggi del trasporto e della logistica. La transizione elettrica ai camion è un argomento che da sempre suscita curiosità e dubbi nei trasportatori, in un caso che proprio qui in redazione ci sono arrivati tantissimi quesiti scritti proprio da voi, ad esempio sul funzionamento delle batterie, sull'autonomia, sulle tempistiche della ricarica e così via. In questo episodio di K44 Tecno vogliamo allora mettere, fare un po' di ordine, fare chiarezza sull'argomento mettendo in fila i vari inquisiti che ci avete rivolto e abbiamo deciso di far rispondere direttamente a due specialisti, cioè chi praticamente si occupa ogni giorno di mobilità elettrica, ovvero Sabrina Loner e Arthur Fricks Gomez che seguono lo sviluppo dell'elettromobilità per Volvo Trucks Italia. Sentite cosa ci hanno detto. Con il nostro veicolo elettrico con una sola ricarica puoi percorrere tutti i chilometri necessari per la missione per cui il veicolo è idoneo. Se è un veicolo per un trasporto urbano barra regionale riusciamo a percorrere fino a 350 chilometri, più o meno sempre, anche se sappiamo che la percorrenza e l'autonomia di un veicolo elettrico è condizionata da un insieme di fattori operazionali. Ne cito alcuni, la temperatura, le condizioni di carico, la topografia, lo stile di guida dell'autista, tutti questi parametri composti insieme determinano quella che è l'autonomia. Possiamo però dire per esperienza in funzione dei dati dei risultati dei nostri veicoli che più o meno 350 chilometri sono garantiti per ogni tipologia di applicazione con il nostro veicolo elettrico. Quanto costa una singola ricarica? Il costo della ricarica dipende da come ricarico il veicolo e da dove ricarico il veicolo. Posso ricaricarlo presso il mio deposito dove l'energia che utilizzo per ricaricare il mio veicolo è un'energia prodotta da dei pannelli solari e quindi il costo praticamente è se abbiamo ammortizzato l'impianto è pari a zero oppure è un costo legato a quella che è il posizionamento medio del kilowatt offerto da una ricarica pubblica. Possiamo dire che sulla media del costo kilowatt al chilometro dello scorso anno la ricarica di un nostro veicolo elettrico si posiziona intorno a 60 euro. Prima ho detto che il nostro veicolo elettrico può essere ricaricato e il il costo è di 60 euro. Non credo che un pieno di gasolio possa essere fatto al costo di 60 euro quindi posso tranquillamente dire che la ricarica di un veicolo elettrico costa sicuramente meno di un pieno di gasolio di un veicolo a combustione. Il rimorchio non funge da batteria per un per un veicolo elettrico. I veicoli elettrici trainano tutti i semi rimorchi e tutti i rimorchi di un normalissimo trainati da un normalissimo veicolo a combustione interna. Non fungono da batteria anzi ci sono degli rimorchi che per la loro attrezzatura possono essere energivori quindi invece di fungere da batteria hanno bisogno di essere alimentati dalla batteria di trazione del nostro veicolo. Allora quanto tempo serve per ricaricare il nostro veicolo? Innanzitutto dipende dalla modalità con cui ricarico il nostro veicolo. Il nostro veicolo ha la caratteristica di essere ricaricato in due modalità. Posso ricaricarlo in modalità lenta con una ricarica in corrente alternata oppure con una ricarica veloce, un fast, utilizzando delle colonine di ricarica ad alta potenza oppure così come abbiamo qui un caricatore mobile sempre in corrente continua. Quando ricarico ad alta potenza quindi fino ad un massimo di 250 kilowatt perché questa è la potenza con cui il nostro veicolo può essere ricaricato, ricarico in un'ora e 50, in due ore da zero sostanzialmente a 100. Se ricarico invece la sera, la notte, quando il veicolo è ricoverato verso il nostro deposito, sfruttando una corrente alternata fino a 40 kilowatt, ricarico in circa nove ore. Quindi il tempo di ricovero notturno del veicolo può essere utilizzato per una ricarica a casa presso il deposito in corrente alternata ed impiego circa nove ore. Per tipologia di missione e di ambito di impiego un veicolo elettrico è un veicolo che ad oggi risponde ad esigenze di trasporto regionali barra urbane. Quindi il suo utilizzo migliore è in questo ambito e quindi dove possiamo e troviamo più idoneo la ricarica di un veicolo elettrico? Presso il deposito, presso i punti di scarico del veicolo. Quindi solitamente un veicolo elettrico viene ricaricato presso le ricariche della committenza piuttosto presso il deposito. Diciamo che ad oggi sono presenti delle infrastrutture, dei punti di ricarica pubblici dove la potenza e il connettore hanno le caratteristiche idonee per poter ricaricare il nostro veicolo. Il problema talvolta è la dimensione perché spesso questi posti di ricarica pubblici sono stati pensati per ricaricare un veicolo di dimensioni diverse dal nostro veicolo. Quindi ad oggi sicuramente questo tipo di veicolo per l'utilizzo, per il tipo di missione a cui è idoneo viene ricaricato presso i depositi piuttosto che i punti di carico e scarico del veicolo stesso. Allora ad oggi sicuramente per come il veicolo è studiato e per l'utilizzo del veicolo utilizziamo di più la ricarica privata o la ricarica presso la committenza. In un'ottica futura quando il veicolo elettrico avrà delle autonomie maggiori e avremo più disponibilità di punti pubblici, punti di ricarica pubblici, sicuramente utilizzeremo anche la ricarica pubblica. Ritengo che però per sua natura ad oggi sicuramente la ricarica e la ricarica privata sia la risposta giusta per gestire la ricarica di un veicolo elettrico. Quando il veicolo elettrico affronta una pendenza ripida si comporta, possiamo dire benissimo, diciamolo, si comporta benissimo. Il veicolo elettrico ha la caratteristica di avere praticamente l'erogazione della coppia massima fin dall'inizio, in modo immediato. Quindi affrontiamo una salita, seppur ripida, con tanta serenità. Il compressore dell'area del veicolo elettrico è esattamente lo stesso del compressore di un veicolo diesel, solamente che prende il movimento dai motori elettrici. Abbiamo già parlato prima di quello che è il costo di una ricarica di un veicolo elettrico e abbiamo sostanzialmente affermato il fatto che la ricarica ad oggi di un veicolo elettrico è più economica rispetto ad un pieno di gasolio. Altri tipi di vantaggio? Altri tipi di vantaggio sono sicuramente legati a quelli che sono i temi di sostenibilità ambientale. Un veicolo elettrico, se ricaricato con un'energia elettrica green, è sicuramente in termini di emissioni di CO2 vantaggioso rispetto a un veicolo diesel, in quanto le emissioni di CO2 allo scarico, diciamo allo scarico anche se stiamo parlando di un veicolo a batteria, sono praticamente nulle. Un altro sicuramente vantaggio è il tema delle vibrazioni. Il veicolo impiegato in determinati tipi di emissioni ha il vantaggio di non subire delle vibrazioni, quindi anche l'autista, la tensione di guida viene allentata. Alcuni dei nostri driver, dei nostri autisti dicono che dopo una giornata di lavoro, seppur impegnativa, scendono più rilassati, quindi anche questo. Poi il piacere della guida. Diciamo che guidare un veicolo elettrico, il nostro veicolo elettrico come guidare un'alta gamma, quindi è un piacere. È un piacere guidarlo e affrontare quindi una giornata. Un altro tema importante è il tema dell'inquinamento acustico. Parliamo di inquinamento, di inquinamento atmosferico, ma parliamo anche di un inquinamento acustico, quindi è un veicolo particolarmente silenzioso. Silenzioso sia per chi vive all'abitacolo, quindi per l'autista, ma anche per tutto l'ecosistema, il mondo che vive esternamente al nostro veicolo, che può essere un vantaggio o non un vantaggio, ma poi Volvo ha provveduto anche a rendere sicuro un veicolo che è silenzioso nel mondo in cui si muove. Quanto può accelerare? Anche qui l'accelerazione ce l'abbiamo immediata fin da subito. Abbiamo 666 cavalli questo veicolo, quindi l'accelerazione è assolutamente immediata. Qual è il fatto? È che l'accelerazione viene limitata da quella che è l'elettronica. La manutenzione ordinaria, quella che conosciamo, la sostituzione dell'olio, dei filtri, ovviamente in un veicolo elettrico non è presente. Infanto non abbiamo l'olio motore, non abbiamo i filtri del motore da sostituire. Quindi sicuramente i componenti di usura di un veicolo elettrico sono inferiori. Quindi in termini di costo la manutenzione di un veicolo elettrico comunque sia si posiziona più o meno come quella di un diesel perché abbiamo un componente nuovo che prevede dei controlli che sono le batterie, le batterie di trazione. Qual è il vantaggio? Sicuramente l'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo tra una manutenzione, tra un controllo di manutenzione e la successiva per un veicolo elettrico si allunga. Quindi il numero di pit stop programmati annuali si riducono rispetto a quelli di un veicolo diesel. Il veicolo elettrico dispone di un radiatore. Non immaginiamo ovviamente il radiatore del veicolo diesel. Il radiatore sta qui e che funzione ha? Ha la funzione importante di mantenere costante la temperatura di utilizzo delle batterie. Le nostre batterie, le batterie di trazione, per garantire la longevità della loro vita devono essere sempre mantenute ad una temperatura costante. E quindi questo fa sì che in condizioni di temperature rigide il radiatore ci permette di riscaldare le batterie o in condizioni di temperature calde di raffrescare le batterie. Quindi la temperatura di utilizzo delle batterie deve essere mantenuta costante e questa è la sua funzione. State vedendo K44 Tecno Il tema della silenziosità di un veicolo elettrico che è un valore aggiunto sembra che talvolta possa diventare un lato negativo perché effettivamente un veicolo elettrico quando sopraggiunge non lo si sente. Volvo ha sviluppato dei suoni che subentrano in particolari condizioni quali per l'appunto in condizioni di bassa velocità, in condizioni di accelerazione, in condizioni di decelerazione e ovviamente quando il veicolo si trova a muoversi a bassa velocità all'interno di una città. Questi suoni hanno preso il nome di Avas che è un acronimo, l'acronimo di Acoustic Vehicle Alertic System. Queste sorte di suoni sono tipo dei farfallì, dei tintinnì che subentrano nelle condizioni per l'appunto di movimentazione del veicolo a bassa velocità, quindi all'interno di un ambito cittadino, quindi rendono un veicolo silenzioso così come il veicolo elettrico sicuro quando esso si muove all'interno della città dove abbiamo gli utenti deboli della strada. Vietato, vietato è una parola forte che però non appartiene al veicolo elettrico perché il veicolo elettrico ad oggi non è vietato in nessun tipo di condizioni e di ambiente lavorativo. Come abbiamo detto, anche all'interno di ambienti chiusi, ovviamente a maggior ragione non abbiamo emissioni di CO2, di gas inquinanti e anche dal punto di vista acustico, come dicevo prima, sono stati introdotti dei suoni che permettono quindi di sentire il fatto che ci sia un veicolo che si muove all'interno di un ambiente chiuso. Quindi ad oggi diciamo che il veicolo elettrico non è vietato in nessun tipo di condizione di utilizzo e in nessun tipo di ambiente operativo. I dati statistici dicono che i veicoli elettrici non presentano un rischio maggiore rispetto ai veicoli termici. Questo si vedono dai dati degli incidenti, quindi questo dato non corrisponde alla realtà statistica. Al di là di questo Volvo tiene la sicurezza sempre sul suo cuore e ha fatto diversi sistemi per garantire che le batterie vengono protette in caso di incidenti, quindi ci sono dei meccanismi per staccare le batterie, per proteggerle fisicamente e tutto è stato testato anche con diversi modalità di crash test per garantire che le batterie siano completamente sicure. L'aumento della potenza di ricarica non è assolutamente un problema per i nostri veicoli elettrici. Ricarichiamo in corrente continua a 250 kilowatt e questi 250 kilowatt vengono gestiti tranquillamente delle batterie perché le batterie hanno un sistema di raffreddamento a liquido che va a mantenerle nella temperatura ottimale per il suo utilizzo e per la sua ricarica, quindi tutto gestito in completa sicurezza. In caso di temporali i veicoli elettrici non presentano ulteriori rischi di attirare i fulmini perché è tutto 100% isolato, non c'è praticamente questo rischio, questo rischio non esiste. Qui possiamo vedere le batterie che conoscevamo già, le batterie da 24 volt e qua le nostre batterie da 600 volt e le batterie a litio. Queste batterie da 600 volt vediamo dalle dimensioni batterie che sono molto più importanti rispetto alle batterie da 24, ma anche dalla sua capacità. Parliamo di una capacità ogni pacco batterie, così come vediamo qua, ha una capacità da 90 kilowattora. Anche la cella a frigo dei veicoli elettrici può essere alimentata dalla batteria del trattore nel caso, quindi esiste questa possibilità di connettere la cella alle batterie del veicolo e così prelevare energia direttamente dal veicolo. Oppure ci sono allestimenti con la sua propria batteria e quindi non va a impattare sulle batterie del veicolo. Comunque per quanto riguarda una cella a frigo l'impatto non è così rilevante rispetto a altre applicazioni come uno spurgo oppure un'applicazione di raccolta rifiuti, dove lì l'allestimento è più energivoro. La cella a frigo può essere benissimo alimentata da batteria del veicolo. Le batterie da 90 kilowattora, così come vediamo qua, ogni cubotto ha un peso da circa 500 kg e sui nostri veicoli possiamo montare fino a sei pacchi batterie. La vita delle batterie è come prima vita venne prevista circa otto anni, quindi questa è la prima applicazione che avrà una batteria del genere. Poi ci sarà tutta la seconda vita, tutto un altro utilizzo che potrà essere impiegata questa batteria che avrà anche una durata ulteriore. Quindi come seconda vita prevediamo che le batterie possano fare benissimo un lavoro come da un accumulatore con i pannelli solari, quindi lì si vede che le batterie avranno molti o più anni di utilizzo. Un veicolo con le batterie cariche non ha problemi di stare fermo, le batterie vanno a staccare i sistemi principali e non vanno a consumare del suo contenuto energetico, quindi il veicolo può rimanere parcheggiato senza problemi. Ad oggi si può trasportare qualsiasi tipo di merce tranne le merce pericolose, non perché il veicolo elettrico non sia atto alle merce pericolose, ma la normativa ADR non è ancora stata aggiornata a permettere questo tipo di trasporto. Tranne questo, tutto il resto si può trasportare in elettrico già ad oggi. Il motore elettrico può percorrere tanti chilometri tutti quelli che servono senza avere problemi di riscaldamento, perché il motore elettrico viene raffreddato da un circuito a liquido raffreddante, quindi il motore elettrico e le batterie vengono ottenute alla temperatura ottimale di utilizzo e non hanno rischi di riscaldamento. Lo spunto alla massima coppia dei veicoli elettrici venne gestito elettronicamente, nel senso che l'accelerazione viene gestita per essere un'accelerazione dolce e non usurare i pneumatici e neanche creare delle situazioni non sicure, quindi viene tutto gestito dal miglior modo possibile per chi il veicolo abbia tutte le prestazioni, però con tutta la sicurezza. L'efficienza di un motore elettrico rispetto a un motore diesel è più alta perché un motore elettrico presenta meno dispersioni, meno girazione di calore, meno vibrazioni e meno rumorosità, quindi per concetto è un motore più efficiente, è un motore che va a trasformare l'elettricità in movimento da una forma più efficiente. Per carichi molto gravosi o eccezionali, ad oggi il veicolo elettrico non si presenta l'alternativa più idonea, non per una questione di potenze, perché potenza abbiamo 666 cavalli su questo veicolo, quindi non è un problema di potenza, ma per il discorso dell'autonomia ad oggi non è la tecnologia più idonea per questo tipo di carico. Bene, grazie come sempre per essere arrivati fino in fondo alla visione di questo video e speriamo vi sia tornato utile per togliere qualche dubbio di troppo sull'elettrico, ma se ciò non bastasse e avete altre domande vi invito come sempre a segnalarceli nei commenti qui sotto al video e scrivendo, vi ricordiamo, sempre in maniera educata e rispettosa. Io vi saluto e vi do appuntamento come sempre qui sul nostro canale YouTube per nuovi video. K44 Tecno vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.